Un punto di partenza, così i sindacati definiscono gli accordi che sono stati sottoscritti durante l'incontro con l'ASL Toscana Sud-Est. I problemi sul tavolo rimangono tanti in vista della convocazione di un nuovo incontro il prossimo 20 marzo. Con questo accordo noi abbiamo inteso volere appunto traghettare questo momento. Noi sappiamo che ci sono una serie di difficoltà nei procedimenti assunzionali, non lo neghiamo, ci siamo confrontati, ci siamo confrontati anche molto frizzantemente, mi conceda questo termine, fino ad arrivare a un momento di estrema tensione che ci ha visto quasi arrivare allo stato di agitazione, quindi con il coinvolgimento della prefettura. Ora dal 20 ci siederemo al tavolo e faremo un'analisi congiunta dell'analisi reale di Fabbisogni, andando ad individuare chi, dove, come e quando entrerà in servizio ad aiutare appunto la nostra sanità, la sanità della retina, la sanità dell'area vasta in generale e soprattutto delle risposte ai lavoratori e cittadini. Noi dobbiamo essere sempre lì con quei numeri che Desiderio, andato via il 28, ha cercato anche di forzare perché lui ci portava dei dati con 45 persone in più. Ora chiaramente 45 su 7.241 non è che sia un grosso numero, però almeno ha messo un po' di sforzo per farlo. È stato anche ripreso dalla Corte dei Conti per ritornare indietro su quell'assunzione che aveva fatto. Noi vogliamo un po' più di certezza e vogliamo anche che il personale che va via sia ricoperto, sempre se è necessario mantenere quel servizio, nello stesso modo perché non si può pensare che lì ci sia un'assenza, se no il servizio non va avanti. Mancanza di personale e poi quali altri problemi? C'è stato anche questo esodo di professionisti? Sì, c'è questo esodo di professionisti che rispecchia una situazione di estrema difficoltà anche per i medici, per i primari dove in qualche modo il proprio lavoro e la propria professionalità viene meno perché mancano gli infermieri, mancano gli ossi, mancano tutte le figure professionali, gli strumenti non vengono in qualche modo revisionati come dovrebbero essere, parlo delle tacche, quindi la diagnostica pesante, ci sono grosse difficoltà e quindi anche il primario non vede un sbocco professionale, ma soprattutto ha difficoltà, io credo anche di coscienza perché si lavora male, i tempi di ospedalizzazione sono sempre minori, le cure di continuità che dovrebbero essere fatte a livello di miceliare vengono meno, quindi le famiglie sono in difficoltà, di conseguenza voglio dire, è chiaro che poi ritornano nei reparti, ritornano al pronto soccorso, c'è l'imbuto perché mancano i posti letti, qui tutto un discorso di contenimento che c'è stato in questi anni, in una sanità che io ho paura che ci sia poca sostenibilità economica, però ci sia anche poca volontà politica di mantenere la pubblica.